cari amici di mille un'avventura in questo video parleremo brevemente di questo seuk shoot em up construction kit che veniva utilizzato a partire dal 1987 per creare i classici shoot em up per il commodore 64 la miga e l'atari st era perciò uno di quegli strumenti di sviluppo senza bisogno di programmazione con qualche limitazione che permettevano appunto di creare dei videogiochi faticando il giusto ora questo seuk lo vedremo tra poco ma prima andiamo a vedere che sta uscendo è già uscito anzi mi sembra retro computer 1982.000 i pc che hanno fatto la storia e la cosa che mi dispiace un po' è che guardando in copertina non si vede il commodore 64 ma si vede il commodore pet al microscopio e poi altre cose tutte sul retro computing che di certo se siete appassionati avrete già i numeri precedenti il numero 0 il numero 1 e questo è il numero 2 disponibile già su amazon direi volume 2 copertina flessibile 29 maggio perciò ah no momento 29 maggio quindi non è ancora disponibile ecco data di uscita 29 maggio è scritto qui vedete si può preordinare ecco pensavo che fosse già uscito perché ho visto la copertina sul gruppo telegram direi di 64 poi invece scopro adesso che la data di uscita è 29 maggio ma potete già comprarlo preordinarlo ora parlavamo di shoot them up construction kit e la cosa che non sapevo è che esiste una versione moderna e andiamola subito a vedere dopo ovviamente aver dato un'occhiata alla versione originale del 1987 guarderemo quella per commodore 64 ecco se ne parlava qui su ecco su redi 64 e si dice c'erano dei limiti notevoli lo dice xandra limiti notevoli perché i nemici dovevano seguire dei percorsi prestabiliti e con un andamento che aveva un inizio e una fine perciò c'era un po di ripetitività nelle partite e questo mi ricordo un po fenix che era sempre uguale il movimento e quindi a un certo punto sull'arcade ovviamente si doveva capire i movimenti erano sempre gli stessi per vincere alla fine quindi è una costante di questi shoot them up dell'epoca anche se in effetti poi ne esistevano di molto più vari ecco se ne parla ovviamente un po dappertutto abbiamo recuperato questa pagina di zap shoot them up construction kit costava in cassetta 29 euro su disco 39 29 mila lire su cassetta e 39 mila lire su disco sbaglio sempre quando leggo questi questi prezzi in lire faccio un pasticcio con gli euro e ormai siamo abituati così e qui se ne parla un po ecco potete andare a vedere questa pagina era il numero 18 dicembre 1987 ed ecco qui il ingrandiamolo il nostro shoot them up construction kit bisogna usare mi pare il joystick per spostarsi e vedete probabilmente lo conoscete l'avrete utilizzato si possono editare gli sprite premendo s e possiamo selezionare per esempio andiamo su selezionare eccolo qui lo sprite 0 qui c'è lo sprite 1 lo sprite 0 evidentemente la nostra navicella che si sposta colorata con questi colori che ovviamente possono essere cambiati questo invece è il proiettile e quindi c'è questo editor sul c64 per creare gli sprite e per uscire non mi ricordo più come si fa uscire ovviamente ecco così quindi si possono editare gli sprite proviamo a modificare la navicella no questo è il proiettile volevo modificare la navicella se ci riuscissi non sarebbe eccola qui allora per modificarla ecco come in tutti i programmi di questo genere possiamo andare a per esempio adesso c'è il il grigio quindi potremmo calma perché qui bisogna fare attenzione eccola qui diamola a editare bisogna stare attenti a quello che si preme allora così si muove ecco vedete sto creando ho sbagliato ma pazienza va bene lo stesso ecco staccato questa parte e poi un'altra striscia qui sotto sempre col grigio vedete che riusciamo a cambiare l'aspetto del nostro sprite comunque è davvero complicato usando il tastierino numerico fare queste cose perché insomma i tasti sono messi un po così vedete abbiamo modificato in modo assolutamente non valido inutile il nostro sprite si possono editare i colori insomma si può cambiare un po tutto e poi con x si può uscire di qua poi si possono editare gli oggetti lo sfondo i vari caratteri che formano lo sfondo gli effetti sonori e possiamo testare il gioco si può fare il test del gioco vero e proprio oppure il test in modalità cheat cioè in god mode f1 your game by your name e lì bisognerebbe scrivere il proprio nome premiamo fuoco per partire e vedete che abbiamo la nostra navicella che è rovinata perché l'ho modificata e poi ogni tanto suona perché evidentemente c'è un release forse troppo lungo non so se l'ho sentito ogni tanto riesce a fare anche il rumore e quindi vedete c'è la navicella si può spostare e si può ovviamente predefinire una serie di nemici che arrivano e che noi dobbiamo distruggere con questi proiettili lo sfondo ovviamente personalizzabile adesso c'è solo un puntino ma si può cambiare tutto lo sfondo ebbene questa cosa qui davvero dall'epoca del 1987 vediamo se riesco a uscire ecco fatto esiste una versione moderna una versione moderna che adesso andiamo a vedere ecco la versione moderna la troviamo qui sul sito glbasic.com vedete shoot em up construction kit e dice l'autore questo è un grandiamo questo è un remake della versione seuk del c64 ha cercato di mantenere tutto più vicino all'originale possibile però alcune cose dove l'hardware moderno lo consentiva le ha aggiunte questa era la sua idea ditegli se ha fatto un pessimo lavoro così potrà migliorarlo non so di che anno sia non vedo non vedo 2010 addirittura quindi roba roba piuttosto vecchia ecco era il remake per i retro remakes competition addirittura del 2008 però il programma è del 2010 quindi andiamolo a provare vediamo come vedete ecco vedete una schermatina un po' piccola si può scegliere tra l'inglese e il tedesco peccato che non si possa aumentare la dimensione della finestra e si può ci sono dei progetti di esempio ovviamente si possono modificare gli sprite tutte le cose cancel che avete visto prima si possono modificare i background le animazioni eccetera eccetera vediamo riva ride lo andiamo a caricare e quindi vedrete ci sono gli sprite l'aeroplanino qui che muoveremo la nostra navicella lo sfondo con i vari i vari caratteri che formeranno lo sfondo che vedrete le animazioni i suoni i livelli eccetera proviamo il gioco non non vogliamo imbrogliare e adesso qui devo ricordarmi i tasti eccolo qui in pratica mi pare sia ctrl per sparare e poi wasd per spostarsi vedete che non so perché non esplodono ecco ce l'abbiamo fatta a qui c'è il c'è il combustibile qui dobbiamo stare attenti ecco adesso cominciano a diventare molto più complicate non sento i suoni non so se bisogna stare attenti a non finire sulla terra ferma perché ci si distrugge l'aereo quindi quanti aerei ho a disposizione uno solo perché forse ne avevo solo due ecco sono quasi riuscito a distruggere la mongolfiera prendiamo ho preso il combustibile volevo distruggere queste bisogna colpirli più volte per distruggere le ecco questi elicotteri hanno questo movimento particolare ci sono dei proiettili che tornano anche indietro bisogna stare attenti ecco questo l'ho preso in pieno manca ancora una vita probabilmente e ce la farò ho ecco abbiamo preso combustibile altri proiettili un po lento si poteva fare probabilmente un po più veloce mancato per un pelo poi ci sono i cannoni che sparano i carri armati insomma un'idea l'avete vista ecco questo funziona sia per linux che per mac os che per windows sia l'editor che i giochi che producete almeno credo sicuramente i giochi su windows funzionano adesso sta diventando un po difficile infatti sono stato distrutto vediamo un po come si fa uscire così non so se ci sono altri progetti ah sì ci sono c'è anche mario vedo qui vediamo un po di che si tratta lo apriamo eccolo qui c'è mario praticamente senza baffi però adesso glieli aggiungiamo ecco i baffi qui potremmo mettere un rosa e ovviamente è molto più semplice creare gli sprite ecco usando il mouse sì barba e baffi mettiamo anche un po di barbetta così ecco il nostro mario e ok e adesso proviamo a vedere come è fatto il gioco premiamo fuoco ed ecco qui si può costruire anche un platform evidentemente come non so come si salta si salta col tasto apposito ci sono i funghetti però vorrei che sparasse non so perché ma spara solo da una parte ci sarà un motivo non riusciamo a fare il salto ecco ce l'ho fatta prendiamo le monetine di qua non si va saltiamo qui c'è un fossato direi che siamo riusciti ecco non si vedono molti baffi non so se ho salvato a perché i baffi ci sono solo e qui sta ancora saltando proviamo a ricominciare come si farà a terminare tutto così allora gli sprite sì questo è la barba però ecco devo mettere la barba anche qui evidentemente una sorta di barba facciamo finta poi cosa c'è c'è il proiettile c'è il funghetto quindi adesso la barba dovremmo vederla iniziamo sì questa volta ho messo il cheat mode quindi non non è regolare come partita io questa questa barba e questi baffi non li vedo in effetti quindi non so se ho salvato e tra l'altro scopriamo o che è un po' buggato o che col cheat mode la testa si incastra sul soffitto ricominciamo diciamo no iniziamo fire ecco cerchiamo di non incastrarci di nuovo si può sparare solo in quella direzione lì abbiamo eliminato il funghetto abbiamo preso le monetine e via si continua così sono riuscito anche a passare l'ostacolo e siamo riusciti a superare il primo livello non era effettivamente molto difficile tra l'altro c'è un livello solo quindi siamo bloccati qua perciò questo seuk ha anche una versione diciamo non ufficiale un remake fatto alla bella e meglio o meglio funziona ma ci sono un po' di problemini e roba di 15 anni fa ormai se non di più bene provatelo questo seuk se volete creare qualcosa ma penso che siate più interessati a vedere utilizzato quello originale per commodore 64 e di solito quello che potremmo fare è creare un piccolo piccolo demo per vedere come funziona ma solo se qualcuno è interessato e tutta roba degli anni 80 quindi non so quanti lo vogliono rivedere ma sicuramente l'avrete usato tantissimo all'epoca se eravate riusciti a recuperarlo magari su disco spendendo 40 mila o meglio 39 mila euro no 39 mila lire ecco adesso l'ho azzeccata bene spero che questo video comunque così scarno possa interessarvi ugualmente e ci rivediamo in un altro video in un'altra diretta ciao a tutti il commodore 64 è la mia ore giochi infiniti avventure virtuali immaginazione libera di correre iscriviti al canale